Buona domenica, il tasso di inquinamento ormai ha superato i livelli di allarme e dunque anche le case automobilistiche accelerano la ricerca su motori sempre più rispettosi dell'ambiente e anche Audi prova a buttarsi alle spalle il diesel gate con una strategia di elettrificazione di tutti i suoi modelli a partire dall'ultima Audi Q7, un Maxi SUV ibrido plug-in che arriverà a primavera. Sentiamo Alfredo Cardone. Ma le città europee sono attrezzate per una guida più green, in sostanza per ospitare un maggior numero di auto elettriche? Rotterdam certamente sì, proprio in questa città è stato avviato un progetto di collaborazione con BMW che è un esempio concreto di sinergia tra pubblico e privato per una mobilità più sostenibile. Sentiamo Beppe Gioia. Rigorosamente ibrida come tutti i modelli, anche la RX di Lexus, best seller della casa giapponese con oltre 2 milioni di veicoli venduti dal 98. Ora si rinnova, è arrivata la quarta generazione con un design molto più accattivante e tanta tecnologia a bordo. Alfredo Cardone. Ogni marchio ha un modello che meglio lo rappresenta. Se parliamo di moto e parliamo di Triumph, questo modello è la Bonneville, icona degli anni 60. Rinata nel 2000, anticipava un po' la voglia di retro che c'è molto oggi. Ora arriva dopo 15 anni un nuovo modello e ce lo descrive Roberto Ungaro. Siamo in chiusura, grazie per averci seguito. Vi aspetto domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori.it. Arrivederci.